Vi prego! Solamente perché gli spartani sono alle porte, non significa che dobbiamo comportarci come loro! Un buon raccolto! Peccato che gli spartani abbiano bruciato i nostri campi! Il partenone è glorioso, Pericle! Ma a quale prezzo? Quante triremi avremmo potuto costruire al suo posto? Non dobbiamo dividerci! Siamo già divisi! E gli spartani stanno vincendo! Agisci, Pericle! O lo farò io! Oh, bene! Sei qui! È peggio di quanto pensassi! Cleone ha fomentato il popolo, dobbiamo andare! Dove? Da Pericle! Indietro! Non è una minaccia per Pericle, te l'assicuro! Ah, Eroduto! Va bene, lasciali passare! È bello rivederti, Pericle! Anche per me! Vorrei solo che le circostanze fossero migliori! E lei chi è? Cassandra! Benvenuta, Cassandra! Qual è la tua prima impressione di Atene? Non è niente da dire! Qualcuno sosterrebbe che il silenzio è più eloquente di mille parole! La folla vi coglierebbe la risposta che vuole, come farebbe un cane con l'osso! Pericle, siamo qui per... Dobbiamo parlargli in privato, scegliere il momento giusto! Bene! Siamo qui per affari urgenti! Come tutti, del resto! Potrei aver detto a Cassandra che la inviterai al tuo simposio! Vuoi che escluda gli Atenesi e che inviti una straniera al loro posto? Hai sentito la folla! Non le serve un'altra ragione per odiarmi! Se lavorasse per te, forse potrebbe essere scambiata per una servitrice! Io non servo nessuno! Cassandra, siamo ad Atene! Se vuoi qualcosa, a volte devi interpretare...